Musica Molto contenta oggi di darvi il benvenuto alla quattordicesima edizione del concorso Policultura, benvenuti. Quest'anno 182 iscritti e in 68 sono riusciti ad arrivare alla fine, 1350 studenti di cui voi siete parte, da 14 regioni d'Italia e quello che avete fatto, se lo dovessimo guardare dall'inizio alla fine, tutti i 68 lavori staremmo qui per 18 ore. Passiamo adesso alla scuola secondaria di primo grado. Allora, abbiamo in questo caso alcuni finalisti, vediamo chi. 50 passi dal sogno, la scuola di Almenno San Bartolomeo, poi abbiamo Con il naso all'insù, la scuola Fantapiedi Viterbo, Donne di scienza ieri e oggi intorno a noi, una scuola di Roma. Poi abbiamo History of Mine, una scuola di Locate Triulzi. La narrazione Io, Batman e voi, da Ginosa, provincia di Taranto. E poi abbiamo Lo Spirito della Matematica e le Matefiabe, una scuola di Mazzara del Vallo. Orgogliosi di essere siciliani, una scuola di Bagheria, Palermo. E poi un simpatico Vallinferno Covid, che l'abbiamo detto tutti quanti per un anno e mezzo, della scuola di Locate Triulzi. Allora, e quindi diamo per ogni livello ordine scolastico questi premi separati. Poi ovviamente fra tutte diciamo, sì, bene i vari aspetti, però ce n'è una che spicca più di tutti e noi la chiamiamo i premi overhaul. Quindi i premi di categoria vincono un mini proiettore e i premi overhaul, uno per livello scolastico, vincono un mini PC, un mini proiettore e una XP pen. E il vincitore overhaul, con il naso all'insù, prima A dell'Istituto Comprensivo, Fantapiedi Viterbo, complimenti. Sono loro. Sono anche capaci di tenere una bottiglietta sulla testa senza muoversi, come i modelli. La narrazione multimediale con il naso all'insù esprime il lavoro di ricerca sul patrimonio artistico e culturale di Viterbo. Le citazioni storiche, le leggende e le immagini fotografate e realizzate dagli alunni si intersecano gradevolmente con le voci narranti. La valorizzazione del paesaggio culturale locale fornisce significativi elementi per incrementare nei giovani il senso di appartenenza al territorio, il senso di cittadinanza e di responsabilità nella cura del bene comune. Lo storytelling, supportato da meccanismi narrativi efficaci, mette in luce il risultato della didattica supportata dalle tecnologie. Lavoro molto valido che, nonostante i limiti imposti dalla pandemia, è riuscito a generare benefici legati allo spirito di gruppo. Il premio della giuria popolare, che quindi è tra tutti e 28, può andare a qualsiasi livello scolastico, e va A con il naso all'insù. Prima A dell'Istituto Comprensivo Fantapie di Viterbo. Prima A dell'Istituto Comprensivo Fantapie di Viterbo. Prima A dell'Istituto Comprensivo Fantapie di Viterbo. Prima A dell'Istituto Comprensivo Fantapie di Viterbo.